Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea rappresenta, come più volte ho cercato di adombrare, un evento di portata epocale. Anzitutto si intende per la stessa Gran Bretagna, che ha riconquistato la propria sovranità nazionale, ancorché non avesse mai ceduto quella monetaria, ed è così tornata libera, o se non altro più libera di quanto non fosse nella gabbia d'acciaio dell'Unione Europea, tecnocrazia repressiva ed efficiente che dissangua i popoli d'Europa sacrificandoli sull'altare degli hub finanziari e del sistema usurocratico bancario. Ebbene la Gran Bretagna quindi sotto questo riguardo ha vinto. E tuttavia ritengo ancor più importante l'evento del Brexit perché è un chiaro segnale rivolto a tutti i popoli d'Europa. È un segnale il cui senso si lascia condensare in questo teorema. Uscire dall'Unione Europea è possibile. Contro quanti in primis Mario Draghi, l'ex uomo di Goldman Sachs, vanno ripetendo a tambur battente che l'euro e l'Unione Europea sono irreversibili, con il solo obiettivo di renderle entrambe tali, convincendo le popolazioni d'Europa che sia davvero irreversibile sia l'Unione Europea sia l'euro. Ebbene contro questo teorema la Gran Bretagna ha insegnato a tutti i popoli d'Europa che uscire è possibile. Ebbene l'ideologia europeistica, l'europeisticamente corretto, ha da subito cercato di demonizzare quel gesto quando ormai era divenuto fattuale e l'ha fatto prospettando scenari di sciagure per la Gran Bretagna sventurata, colpevole di aver abbandonato i perimetri sacri dell'Unione Europea. Si diceva da subito che per la Gran Bretagna sarebbero stati anni grami quelli legati all'uscita dall'Unione Europea. Poco ci mancava talvolta nella propaganda ufficiale che si ventilasse l'ipotesi dell'arrivo delle cavallette. Ebbene ora apprendiamo che in realtà le cose stanno in maniera diametralmente opposta a come le ha presentate senza posa la propaganda ufficiale, il logo unico politicamente corretto che dilaga senza tregua. Leggiamo ad esempio sulla stampa il quotidiano sabaudo par excellence in data 28 febbraio 2021 quanto segue. Il pentimento di chi non voleva la Brexit, Gran Bretagna meglio di tutti, l'economia già si riprende scrive la stampa, con ciò di fatto ammettendo ciò che già da tempo sostenevamo, ossia che dopo un possibile periodo di transizione irto di difficoltà la Gran Bretagna avrebbe sicuramente ripreso a galoppare, sicuramente anche più libera di quanto non fosse all'interno della gabbia d'acciaio dell'Unione Europea. Come se non bastasse, la stampa dedica un altro articolo in data 28 febbraio 2021 al tema in questione, specificando che la Gran Bretagna non soltanto sta prosperando sul piano economico, ma addirittura sta per aumentare le tasse per il Covid. A questo punto chiunque potrebbe preoccuparsi. In verità, se andiamo a leggere di quali tasse si parla, non si può che essere d'accordo con la Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dal Sunday Times, infatti, secondo un'anticipazione credibile, il governo di Boris Johnson si appresterebbe ad aumentare le imposte sulle società, a introdurre tasse sulle vendite online e a congelare le quote di reddito che determinavano le aliquote fiscali, senza più ancorarle all'indice del costo della vita, dice la stampa di Torino. Insomma, vengono si introdotte delle tasse in Gran Bretagna, ma che non vanno a colpire primariamente il ceto medio e le classi lavoratrici, bensì i signori del capitale, coloro i quali prosperano più di prima. Ebbene, la Gran Bretagna ci ha dato una lezione e possiamo ora ragionevolmente dire, a distanza di un po' di tempo dall'evento del Brexit, che non ha prodotto gli effetti sperati dagli euroinomani di Bruxelles, ma che anzi ha restituito grandi spazi di libertà alla Gran Bretagna.